Le Belli! prima serie dei 59 femminili in acqua il corsia quarto che viene da il tappato è la vice campionessa del mondo della distanza anche da secco poi sempre mai votato nel mondo in questa gara Arianna Castiglioni vice campionessa europea Martina Carraro è la campionessa europea dei 100 nana andiamo con 29 e 85 29 e 85 è il record italiano è il record del gruppo Juniores Benedetta Pilato tagliamo record italiano assoluto che già apparteneva ma è il nuovo record del gruppo Juniores 50 nana femminile Benedetta Pilato 30 e 41 Martina Carraro 30 e 47 Arianna Castiglioni